Dove sono? Alle diciotto di ieri pomeriggio, sei stato giustiziato e dichiarato morto. Perciò tu non esisti. Che prigione è questa? Non è una prigione. Stai per entrare nell'animus. Quello che stai per vedere, sentire e percepire sono i ricordi del tuo antenato, morto 500 anni fa. Che cosa vuoi da me? Il tuo passato. Benvenuto nell'inquisizione spagnola. Viviamo nel buio per servire la luce. Noi siamo assassini. I am God L'inquisizione spagnola. L'inquisizione spagnola. Grazie a tutti